Giorgio Manetti Giorgio però racconta di quando aveva 18 anni e andava a ballare. Chiedeva di ballare alle più grandi di lui, perché dice io ero attratto, a parte da tutte le donne, ma anche da quelle più grandi di me, perché sono una persona curiosa. Mi interessavano quelle che sapevano della vita. Sul palco, accanto a lui, Tina Cipollari che non manca di fare battute, del tipo, io sono troppo piccola per lui. Non manca inoltre di fare riferimento a Gemma Gargani dicendo, forse non tutti sanno che Giorgio è stato 8 mesi con Gemma che ha 80 anni. Risate generali.